Ha chiuso il 2012 con una sconfitta e ha iniziato il 2013 nello stesso modo al pala Botteghelle e l'Arcanteano riesce ad imporsi su Reggio Calabria, squadra solida che ha preso fiducia minuto dopo minuto. Coach Russo parte con Crotta in quintetto al posto dell'infortunato Banti e l'avvio è subito equilibrato, con Fontecchio subito pericoloso e i lucchesi che rispondono colpo su colpo. La svolta però arriva quando in un'azione a rimbalzo Gazzotti e Piazza si scontrano e sono entrambi costretti ad uscire dal campo, con il playmaker che ha la peggio e non riesce più a rientrare. Coach Ponticello si affida quindi a Ricci e a Sabatino in cabina di regia. Entrambi i giocatori sono in una serata di grazia e nel momento che doveva essere di maggiore difficoltà i padroni di casa allungano con una tripla di Fontecchio. E nel secondo quarto riescono ad andare ulteriormente avanti pescando una tripla di Ricci e arrivando fino al 45-26 nell'ultima azione prima dell'intervallo. Ritrovatasi sotto di 19 punti, l'Arca trova però la forza di reagire, passa zona e spinta dalle triple di Barsanti piazza un parziale di 11-2, che culmina con un fallo in attacco di Caprari. Lucca sembra in grado di riaprire tutti i conti, Ponticello però è bravo a predicare calma e proprio grazie ai numeri di Caprari la squadra di casa riesce a limitare i danni, andando all'ultimo riposo avanti di 11 punti. L'impresa però è nelle corde dei Lucchesi, che stringono la difesa e pescano un canestro di Sorrentino e poi un tapin vincente di Bottioni, che li riporta a meno 4. Nel momento migliore però è Sabatino a segnare dalla distanza e nonostante Negri riesca a trovare il canestro con discreta continuità, la Viola si appoggia ai tiri liberi per tenere il punteggio sotto controllo. All'arresto poi pensano le iniziative di Sabatino e la buona prestazione di Quaglia in mezzo all'aria. La gara si chiude 86-76 per i padroni di casa.